E chi l'ha detto che la televisione non possa essere a livello del cinema? A sfatare il mito ci ha pensato il Morandini 2014, che si è aperto anche alle produzioni televisive. Le serie tv sono entrate in maniera preponderante nella vita anche degli italiani dopo essere entrate in quella di tutto il mondo. La qualità raggiunta dalle serie tv, in particolare da quelle americane e inglesi, è tale che non si possono più ignorare. E se il meglio della passata stagione arriva dall'America con Il Trodo di Spade, The Good Wife, Homeland e The Walking Dead, in copertina campeggia un'eccellenza tutta italiana, il commissario Montalbano. Zingaretti sa che comunque lo stimiamo già da prima delle serie tv, lo stimiamo come attore di cinema, credo che sia stato contento. Sono molto onorato, anche un po' un riconoscimento a tutti quelli che hanno lavorato a questa serie e fanno parte di questa grande cavalcata avventurosa. A tutti quelli a cui l'ho detto ovviamente sono felici per me o infelici a seconda se mi sono amici o nemici. Il personaggio scritto e inventato da Andrea Camilleri è un grandissimo personaggio da raccontare. Se il segreto del successo risiede quindi nella scrittura, ecco qual è il peggior difetto in campo cinematografico e televisivo. Contro l'imbecillità umana anche gli dèi lottano in vano.